È stato il ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio, il locale da cui è partita l'iniziativa Io Apro, lanciata dall'imprenditore pesarese Umberto Carriera, che come altri ristoratori di città e regioni diverse, ha deciso di tenere aperta la propria attività anche dopo le 18, infrangendo quindi le limitazioni imposte dal governo. Presenti alla cena, che inizialmente si pensava avesse luogo presso la macelleria, altra attività di Carriera, circa una trentina di persone, tra cui anche Vittorio Sgarbi. Prima di entrare all'interno del locale, il parlamentare si è duramente scagliato contro le restrizioni dei DPCM. È evidente che se noi procedessimo nei teatri, nei cinema, nelle scuole, nelle assemblee comunali, a Montecitorio, con i sanificatori, avremmo la certezza che il Covid non si diffonde. Vorrei sapere dove si diffonde. C'è un luogo dove si diffonde, in casa. Quindi io denuncio il governo per una totale azione criminale e assassina contro i cittadini. Qui lo Stato è uno Stato criminale e costringere a chiudere, a non lavorare, perché non si sanificano i luoghi, è una cosa che io non riesco a capire, su cui vorrò che il Parlamento risponda. Si è fatta la cena, sono quasi tutti al dessert e a breve torneranno a casa perché è quasi l'ora del coprifuoco. Sgarbi è ormai diventato un amico, mi aveva promesso che mi avrebbe appoggiato in questa battaglia e si è presentato, con i suoi erari ovviamente, però si è presentato. I clienti sono qua consapevoli e consci che questa è una battaglia, sono qui come clienti, sono qui come sostenitori. Io credo che questa non debba essere una preoccupazione perché la battaglia che facciamo va oltre 400 euro. La serata si è conclusa con l'arrivo delle forze di polizia che hanno imposto la chiusura del ristorante per 5 giorni, insieme alla multa di 400 euro destinata al titolare. Sanzionati ed identificati da vigili e carabinieri anche i clienti che hanno preso parte alla serata, alcuni dei quali hanno violato anche l'orario del coprifuoco. All'indomani dell'iniziativa non si è fatta attendere la replica del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che riferendosi all'evento ha parlato di grande flop, una protesta che non ha avuto seguito in città e che ha dimostrato come i ristoratori pesaresi abbiano rispettato le leggi. Critica anche la posizione del direttore della Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, il quale ha definito l'iniziativa un fallimento totale, sottolineando poi la serietà dei ristoratori e dei titolari dei pubblici esercizi che, nonostante le gravi difficoltà economiche, si sono dimostrati rispettosi della legalità.